E allora buonasera a tutti, qui al Jam Sport, la finale di Coppa Italia, Gigi, Giordano e Gianluca, immobiliare Colossea, quindi partiamo subito con Gianluca, le previsioni, partita secca, finalissima! Sì, secca è la più importante, siamo arrivati fino a qua, quindi vogliamo vincere e basta! Grande! Giordano, pronostico? Eh, pronostico, daremo tutto per portare a casa la vittoria, entriamo col coltello tra i denti, è un derby, nessuno si aspettava che arrivavamo in finale, invece eccoci qua! Bene, quindi allora ci andiamo a gustare la finalissima Coppa Italia, è finita l'attesa, grazie, in bocca al lupo, Colossea e Coppa Italia!